Allora qui siamo con il regista italiano Giorgio Serafini che vive negli Stati Uniti da molti molti anni. Adesso poi Giorgio ci dirà esattamente da quanti anni e gli chiederemo esattamente la differenza che ha riscontrato tra lavorare in Italia e lavorare negli Stati Uniti. Giorgio ha diretto dei film d'autore, delle serie televisive per la RAI e dei film d'azione statunitensi con attori conosciuti come Wesley Snipes, Dolph Lutgren eccetera. Allora caro Giorgio benvenuto nella mia brevissima trasmissione che ho. Prima avevo su un altro canale adesso ce l'ho su Eurocomunicazione che praticamente è un sito che di solito dà notizie provenienti dall'Europa ma in realtà da tutto il mondo che anche una volta all'anno impartisce un premio che si chiama però un proprio premio Eurocomunicazione che l'anno scorso ho vinto per questo film tunisino del quale ti parlavo L'Île du Pardon con Katia Greco, Paro Lavini e Claudio Cardinale, probabilmente l'ultimo film della Cardinale per la quale appunto ho vinto questo premio. Insomma caro Giorgio tu hai iniziato, so che hai vissuto prima a Bruxelles, poi... Io sono nato e cresciuto a Bruxelles e quindi quella è una città dove sono rimasto più o meno 27 anni e ho fatto l'università lì eccetera e poi nel 94... vabbè poi ho avuto un po' di viaggi e nel 94 sono arrivato a Los Angeles dove sono rimasto anche se poi nel frattempo ho viaggiato molto perché c'era un periodo in cui facevo molta fiction italiana e quindi stavo più in Italia che negli Stati Uniti però ufficialmente ero già statunitense, io ho la doppia cittadinanza. Sennò cos'altro? Sì adesso resto quasi esclusivamente qui ho appena finito un film cioè sta adesso in post produzione che ho girato nel Mississippi... Un thriller no? Vedente l'ho girato qui vicino a Palm Springs quindi questo è già il mio secondo film con Christopher Lloyd, poi c'è Trevor Howard Oscar nominato, ho nominato all'Oscar, Jenna Malone, vabbè un po' un po' di attori interessanti. Devo dire un film che è venuto fuori... io sono molto critico delle mie cose quindi veramente mi fa tutto abbastanza... invece questo credo che sia venuto molto bene soprattutto grazie a degli attori strepitosi devo dire. È un thriller horror mi pare... Sì è un thriller sopranaturale allora lo chiameranno horror però non è... lo distingo perché non è un horror con una montagna di sangue e ragazzine teenager con il t-shirt bagnato che corrono nella foresta non è un horror così. È sicuramente più psicologico, più interiore però è un film che ha un'angoscia che esce fuori veramente molto bene. Ed è un low budget, medium budget? No è un medium budget cioè è già un film che sta sui cinque milioni. Ah beh, hai girato con l'aria Alexa, con la red... No, abbiamo girato con la red... adesso non mi ricordo più l'ultima... abbiamo girato in anamorfico... Bello! Quindi è stato abbastanza divertente... devo dire con una troupe strepitosa... e poi abbiamo... vabbè sì... quindi... una troupe completamente americana questa. è fantastico. Ho una domanda che volevo fare... quindi tu hai fatto tipologie di film e fiction abbastanza diverse perché quella più conosciuta tua è Orgoglio in Italia però hai fatto anche un film sulla guerra Texas... poi hai fatto dei film d'azione in America qualche film d'autore... qual è la tipologia di film che veramente a te piacerebbe fare... piace fare insomma? Allora, a me piacciono i... ehm... I film in costume. Quindi anche quasi tutto quello che io ho di futuro è in costume. Bello! Però non ho... come si vede dalla mia filmografia mi diverte molto provare generi diversi. ehm... non mi considero incastrato in un... in un tipo... ma... ma va benissimo eh... cioè... ognuno fa le scelte che vuole... però... a me diverte molto... per esempio questa... questa serie di film d'azione che ho fatto eh... adesso... ci ho messo un punto... cioè dopo un po' mi stanco no? Quindi... scopro... mi diverto... mi entusiasmo... quando l'entusiasmo non è più lì... devo cambiare. Questo è un po' la... questo è un po' il... il mio modo di funzionare. Infatti... come avrai notato... e anche per la musica per esempio... io raramente mi affeziono agli stessi collaboratori... perché... mi diverte... eh... esplorare con nuovi... anche perché... io parto dal principio... ma anche lì poi dipende da regista a regista... no? o da artista a artista. Io parto dal principio che quando una persona ti conosce troppo bene... si crea un automatismo... che per me non è più entusiasmante. Quindi... preferisco cambiare... in modo che io possa riimparare... a dialogare con un altro artista. Capisci? È un po' quello il mio... il mio discorso. Poi chiaramente... poi invece ci sono anche degli obblighi... come dire... produttivi che diventano... per la scelta dei collaboratori... no? Però... questo è un po' il mio... il modo in cui io funziono... mi piace... mi piace... essere un bambino... con dei giocattoli nuovi ogni volta... no? non è... e credimi... non sto parlando dei miei collaboratori come dei giocattoli... ma... di stare... di stare in un nuovo negozio ogni volta... di essere... nuove esperienze stimolate... no? È un punto interessante... perché invece ci sono... dei registi importanti... Hitchcock... che ha collaborato spesso con Herman... che invece... amava questa collaborazione... proprio perché si conoscevano... ed era più facile collaborare... però è interessante invece... questo punto di vista... così diverso... di... invece di esplorare... nuovi compositori... nuovi modi di collaborare... e trovare strade diverse... sempre... tu hai lavorato... mi ricordo per orgoglio... con Stefano Mainetti... con... credo il Falcola Colombo... con il mio amico Maurizio De Angelis... e poi con americani... che forse non conosco tutti... insomma... hai cambiato... come ti approcci con loro... gli dai un po' margine di libertà... o dai del... delle indicazioni molto precise... con i compositori... allora... con... con tutte e due sono rimasto... estremamente soddisfatto... estremamente contento... sono entrambi... dei compositori che... con un'enorme esperienza... e... hanno creato... veramente un mondo... per entrambi le due... le due serie... quindi... infatti... infatti... ho pure provato... di... rilavorare... con entrambi... ma poi... non c'era mai... l'occasione giusta... quindi... anche perché sai... eh... i progetti... eh... secondo me... ecco... visto la mia... il fatto che io... spesso cambio... ehm... una sua caratteristica... ehm... per esempio... io ero ad apparecchio... che volevo collaborare... vabbè... con... con il... bassista di un gruppo... che pochi conoscono... però... eh... fantastico... che si chiama Wire... che è Graham Lewis... che d'altronde ha... tantissimi altri... eh... progetti paralleli... ma Wire è un gruppo che... eh... non so... la loro... le loro canzoni stavano nel silenzio degli annelli... eh... cioè... ah... ok... in grossi film... sì... un gruppo post-punk... molto... molto... pesante... industriale... e finalmente... collaboro con lui... su questo progetto qui... perché... è il progetto giusto... lui me l'ha detto... credo... dieci anni fa... che li sarei... quando l'ho incontrato... mi ha detto... ah... fai il regista... mi piacerebbe fare musica da film... e dieci anni dopo... l'ho contattato... e lui infatti... mi ha scritto... ma come mai mi contatti? e faccio... me le ho detto... certo che è una buona memoria... ha detto... vabbè... allora c'è ancora speranza... e prima o poi... riusciamo a lavorare insieme... ah... sicuramente... diciamo... durante anni... che ci conosciamo... sicuramente... sicuramente... per tutti i film... l'orgoglio... lo so che c'è l'orchestra... il far quello con l'uomo... non so... e... hai avuto... spesso l'orchestra... o molte volte... hai dovuto ripiegare... sul colone sonore... di sound design... con computer... no... no... allora... l'orchestra... l'ho avuta... già con... Texas 46... eh... perché lì ho... ho... lavorato con... Carlo Sigliotto... eh... abbiamo registrato in Bulgaria... eh... quindi... l'orchestra... lì ce l'ho avuta... per gli altri... devo dire... per i film d'azione... qui... no... non ho mai lavorato... con l'orchestra... ehm... però... in Italia... per le serie tv... quasi sempre... eccetto per... eccetto per... il bene e il male... che era... composto da... Guy... Guy Farley... che è un... compositore inglese... non credo che ci abbia messo l'orchestra... ma quello è un... è stato una cosa dove io... alla fine poi ho collaborato... relativamente poco... ehm... dopo che le riprese erano finite... eh... diciamo che per me non è un... un... un requisito l'orchestra... c'è una... eh... vabbè... è evidente che se faccio... un... un film d'epoca... avrà più tendenza... a essere da quella parte... a me... diverte... molto... quando le cose vanno controcorrente... ho capito... per esempio... mi piace... da morire... le scelte musicali... fatti... dalla serie Peaky Blinders... dove c'erano tutte canzoni di Nick Cave... di cose... in una serie che si svolgeva nel 14... nel 15... sono scelte particolari... originali... sono scelte particolari... che secondo me... aggiungono moltissimo... però non sempre si possono fare... quindi... ehm... si tratta sempre di... raggiungere... di toccare... la corda emotiva... giusta... per il film che sto facendo... eh... per esempio... a me... piace molto... il lavoro di Marianelli... che sicuramente... ah... Marianelli... sicuramente... è... 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 più classico... diciamo... nel suo... nel suo approccio... anche se però... Dario Marianelli... ha vinto l'osca... per un film... nel... nel quale... ha messo... la macchina... da scrivere... no... no... ma allora... guarda... di quel film... so... tutto di più... ecco... perché io... adoro... Atonement... eh... un film... fantastico... e d'altronde... fu in quel film lì... devo dire... io... non... non lo conoscevo... Dario Marianelli... prima... fu in quel film lì... dove l'ho veramente notato... perché... oltre alla macchina da scrivere... lui... quel trucco lì... quel trucco... quella... quella... quell'invenzione lì... l'ha utilizzata più di una volta... mi ricordo che c'era una scena... credo di... Sorcery Ronan... ehm... che all'epoca era ancora bambina... che aveva... una palla in mano... e che... stava in una stanza... e la faceva rimborsare contro il muro... li ritornava in mano... e quindi così... c'era questo ritmo di questa palla... che poi diventa un ritmo della musica... e diventa... un brano musicale... quindi... in quel film lì... l'ho fatto sicuramente più di una volta... probabilmente anche di più... e vabbè... il film... il film è stupendo per tutto... quindi è uno dei miei preferiti... insomma... sarà neoclassico... ma con... desiderio di spiegare... comunque questa... la soluzione della macchina a scrivere... è suonata come una percussione... l'ha inventata Dario Marianelli... l'ha inventata Mario Nascimben... nel film Roma Ore 11... è la storia... delle dattilografie... che vanno a un incontro di lavoro... ma sono troppe... il pavimento crolla... e... e muoiono queste... e lui ha usato due macchine... due macchine a scrivere... eh sì... due macchine a scrivere... dei percussionisti di Santa Cecilia... che suonavano come se fossero... delle percussioni... il carrello... quindi l'idea... era venuta da Nascimben... insomma... fantastico... fantastico... eh sì... beh... Nascimben ha rivoluzionato Hollywood... prima ancora... di Rota di Morricone... aveva lavorato per film americani... importanti... come i vichinghi... con Kirk Douglas... la Contessa Scalza... con Ava Gardner... e aveva inventato... con il suo fonico... una pericchio... che si chiama Mixerama... che erano delle... cassette... messe insieme... dove registrava un suono... e rallentava... o accelerava la velocità... per modificare quel suono... questo è geniale... no ma dico... è geniale... a me... io sono sempre molto... ehm... affascinato da persone che trovano... delle tecniche... relativamente semplici... che però... aiutano da morire... l'altro giorno... stavo guardando... come hanno fatto... i rumori... di A Quiet Place... ehm... e... sai... Quiet Place... c'ha questi alieni... che... eh... hanno un udito... particolarmente... sviluppato... e quando... l'orecchio si apre... si sente... questo rumore... veramente... raccapricciante... il rumore... raccapricciante... è... il... un... ehm... il sedano... rotto... rallentato... ecco... geniale... cioè... ma si vedeva... si vedeva proprio il rumorista... che rompeva il sedano... questo crack... del sedano... rotto... lì... lì c'è l'ambiguità... tra... sound design... effetti sonori... e musica... no perché potrebbe essere... eh ma quella... la guarda... allora... quella è stata sempre una mia lotta... quando ho lavorato in Italia... poi sono sicuro che le cose sono cambiate... perché... eh... io ho lavorato... principalmente... cioè anche di recente... però diciamo... principalmente... nel... tra il 2000 e il 2010... no... e... ehm... e quella è sempre stata una mia lotta... l'idea del... del sound design... e del... e del lavoro... da fare assieme... tra i... il sound design... e il compositore... è sempre stata una mia lotta... eh... perché qui negli Stati Uniti... invece la... la gente è più attenta... ehm... c'è spesso... c'è spesso così... una... una... è troppo... è troppo... compattimentato... no... separato... ma anche perché... anche perché... e sono sicuro che le cose sono cambiate... però... in Italia dove ci sono dei geni... a parte te chiaramente... ma dei geni di compositori... e abbiamo fatto la storia della musica da film... e questo vabbè... è inutile fare nomi... ehm... principalmente... era una musica da film fatta di temi... sì... assolutamente... mentre... ormai... la musica da film... il tema... sì... può piacere... però... non è più fatta di grandi temi... è fatta soprattutto di... emozioni sincronizzate con il film... sì... che è molto più importante... e forse... il più bravo... e se mi posso permettere questa parola in francese... nella tua trasmissione... paraculo... è sicuramente... è sicuramente Hans Zimmer... che riesce a mettere sempre i temi... ma allo stesso tempo... creare quell'emozione profonda... vabbè... non voglio iniziare a parlare dell'ultimo film di Dune... perché secondo me... sono due capolavori... il secondo poi è una cosa... sì... la questione di Hans Zimmer... lui ha... ha bene trovare i temi semplici... ma molto efficaci... anche... mettendoci degli equalizzatori che pompano molto il suono... però anche lì... poi i meriti... è difficile capire se sono solo di Hans Zimmer... o di tutti i suoi collaboratori che lo circondano... allora... ti garantisco... perché lo so... che sono dei collaboratori... lui con i collaboratori... e d'altronde... è una cosa che a me piace... perché vedi... io ho lo stesso approccio quando faccio un film... io sono lungi da considerarmi... un genio... uno che sa tutto... eccetera... forse... una delle mie capacità... o almeno... le capacità che ho... quando faccio un buon film... è di mettere assieme una buona... un buon gruppo di persone... assolutamente... cioè... di fare il casting... ma non solo per gli attori... anche per i capi reparti... io guarda... dico sempre... quando inizio a parlare con dei nuovi attori... dico... guarda... io vi guiderò relativamente poco... perché il mio ruolo di regista... e questo vale anche per gli altri collaboratori... è quello di creare i binari... che ci portano in una destinazione... all'interno di quei binari... puoi essere... libero quanto vuoi... anzi... più mi porti delle cose... a quale non ho pensato... meglio è... cioè... dico sempre che il regista è come... un vampiro che succhia il talento degli altri... quindi... mi va benissimo la collaborazione... chiaramente... se vedo che esci fuori dai binari... è il mio compito di dirti... beh... magari questo per un altro film... forse guarda... ritorniamo... ritorniamo sulla direzione... ma sono... è come essere il capitano di una... di una nave... non puoi fare tutto sulla nave... giusto... assolutamente... quindi... per ritornare a Hans Zimmer... a me piace il gruppo... mi piace quella collaborazione... se no sarei uno scultore... o forse... un pittore... capisci... forse avere troppi collaboratori... che apportano tante idee... alla fine... qual è il merito... a chi va il merito... queste idee... non lo so... perché... però Marco... la cosa... allora... posso essere d'accordo con te... però... alla fine poi... la musica di Hans Zimmer... la riconosci... sì... un pochino... e quindi... voglio dire... sì... magari ha 50 collaboratori... che... mi fanno da... per favore... componi... questa... questa parte di... tra le due parti... che è possibilissimo... ma poi... voglio dire... questo tipo di storia... questo tipo di storia... esiste fin dalla musica classica... cioè... è raro che un compositore classico... componesse tutta l'opera... aveva... che... che gli facevano... la... la cosina... il clavicembol in mezzo... tra due grosse aria... sì... ma tu forse non sai che... Hans Zimmer... lui viene dalla musica elettronica... chiaramente non ha studiato... non ha una prima preparazione... accademia... non ha fatto il conservatorio... lui era socio... di una... una società in Inghilterra... del compositore Stanley Myers... che io ho conosciuto... incontrato a Londra... eravamo quasi amici... che è il compositore... di The Deer Hunter... il canciatore... di Michael Schmidt... che fece la cavatina... e Hans Zimmer... era questo giovane tedesco... che si era trasferito... insomma... cercava di lavorare... un po'... in Inghilterra... un po' in America... e gli diede la possibilità... a Hans Zimmer... di scrivere... di scrivere un brano... in un film erotico... che è... il stuardo numero due... ma... le stuardo numero due... non sapevo neanche... che avessero fatto... il numero due... il stuardo numero due... le musiche... le fece Hans Zimmer... scusa... Stanley Myers... e diede a Hans Zimmer... la possibilità... di scrivere un brano... e da lì... poi... la fortuna è arrivata... con Raymond... che la moglie del produttore... è convinto... a prendere Hans Zimmer... insomma... e ha fatto una... una... carriera fortunata... ho letto una storia... proprio l'altro giorno... su Hans Zimmer... che... che... mentre componeva i titoli di coda... per Dune... a un certo momento... diceva... ma io questa... questa linea di basso... l'ho già sentita... mi... mi suona familiare... e poi si è reso conto... che era una linea di basso... composta da Klaus Schulz... per il suo album... Dune... che era di 30 anni fa... quindi... invece di cambiarla... Hans Zimmer... ha chiamato a Klaus Schulz... questo è poco prima che morisse... l'ha chiamato... dicendo... ma senti... ma ti scoccia... se utilizzo la tua linea di basso... e ne facciamo una co-composizione... e pare che Klaus Schulz... non ci credeva... diceva... ascolti ancora la mia musica... 30 anni dopo... è interessante... questo non lo sapevo... è una bella storia... è una bella storia... beh... caro Giorgio... grazie mille... per questa bella conversazione... quando vuoi... mi fa sempre piacere... grazie mille... grazie mille...